Questo è un messaggio per quei fenomeni dell'alassio calcio, per l'avvocato Vincenzi, per il mio collega di latte, ma soprattutto per quei calciatori che poi fanno le cose soprattutto per divertimento e per passione, perché io nei dilettanti ci ho giocato sempre, ci ho allenato e ci ho passato la mia vita a rincorrere gli avversari e i palloni e so che poi le cose lì si fanno più per piacere che per interesse. Voi siete bravi veri perché noi se ne vinte una decina di fila e si credeva di aver fatto le cose impossibili. Da qui in avanti voi siete il nostro esempio, di solito noi allenatori si va alla ricerca di frasi che possano poi destare un po' di stimolo. Sono bravi, complimenti sinceri e verrò a vedere quello che è il lavoro che state facendo, perché sarà sicuramente un lavoro interessante. Con sincerità dal profondo del cuore. Ciao 35 vittorie consecutive, record da grande club d'Europa, sulle orme veramente dei grandi, complimenti all'Alasio Calcio e naturalmente al Presidente, allo staff tecnico e a tutti i giocatori che compongono la rosa. Siete grandi, un abbraccio e continuate così, mi raccomando. Ciao Ragazzi della società Alassio, complimenti di cuore, sono Lele Adani, so dell'impresa che avete fatto, 35 vittorie di fila. Complimenti, complimenti, vincere non è mai facile, farlo 35 volte credo che si tratti di una grande impresa. Continuate così, in bocca al lupo per le prossime 35, vi abbraccio forte, di nuovo bravi. Ciao a tutti, sono Paolo Maldini, volevo fare tanti tanti complimenti al Presidente, allo staff tecnico e soprattutto ai giocatori dell'FC Alassio per questo record veramente incredibile, 35 vittorie consecutive. So benissimo quanto sia difficile poter fare un record del Giugano. Un abbraccio e a presto da Paolo Maldini. Volevo fare complimenti al Presidente, ai giocatori, all'allenatore dell'Alasio per il fantastico record di 35 vittorie. Chi ve lo manda non è Panucci ma è un amico, è Cristian. Per cui tanti complimenti e un'ultima cosa al Presidente, dici che un grande Presidente quando c'è un grande record c'è un grande premio. Per cui, Avvocato, tira fuori i soldi. Ciao e complimenti. Ciao, sono Roberto Carlos, sono qua per mandare un abbraccio a Alassio, questa squadra che ha vinto 35 partite. Complimenti al Presidente, alla società e sono veramente contento. Un abbraccio a tutti, ciao. Complimenti al Presidente, allenatore, giocatori della squadra Alassio per le 35 vittorie in campionato. Un abbraccio e grande. Un abbraccio a tutti.